Tutti da Al Saludatore, una grandissima sorpresa, mi trovo qui con il maestro Antonino San Carlo che sto riempendo con i miei bozzetti delle vittime di mafia, tutta la scenografia del sopravvissuto qui al Teatro Ghione di Roma. Ecco qui con l'opera Butterfly diretta dallo straordinario Francesco Benigno con un cazzo veramente in gamba e fanno emozionare tantissimo il suo modo di fare gli attori, interpretano una grande emozione, la trasmettono anche a noi e a breve si tiranno. Stamattia sono andato in una scuola dove ci sono tanti ragazzi che si sono emozionati. Guarda ci sono state anche lacrime, ragazzi che si sono soffermati e c'è stato che hanno seguito, non hanno interrotto l'interpretazione degli attori. Poi quando hanno finito, hanno tirato giù la tenda, il palco, è un applauso così caloroso, così affettuoso, così forte che ci ha riempito l'anime e ci ha ripagato per i segreti che abbiamo fatto perché ci siamo spostati da Palermo. Ecco, complimenti e questo è un messaggio bellissimo che continuerà, continuerà e mi raccomando seguiteli tutti quanti, anche a lui lo trovate su Instagram. Su Instagram potete trovare che ho realizzato il muro più lungo d'Italia, con altri colleghi, il muro della legalità a Palermo. A Palermo, io ti ringrazio e ecco qui ti do la manina per salutare tutti quanti, i vostri fan della legalità, ciao!